Buongiorno Daido e torniamo a parlare di ChatGPT perché ieri si è parlato di un'altra notizia croccante che riguarda Microsoft e il suo motore di ricerca Bing Bing era stato lanciato nel 2009 e non ha mai davvero insidiato la posizione dominante di Google le ultime indagini di mercato lo mostrano infatti tra il 3 e l'8% di share e Microsoft in questi anni sta cercando di sviluppare tecnologie per renderle più competitivo l'ultima delle quali sembra essere l'integrazione con l'ormai popolarissimo prodotto di OpenAI Rapidissimo riassunto per i distratti OpenAI è una startup fondata nel 2015 e il suo prodotto di punta è GPT Generative Pre-Training Transformer che è una rete neurale generativa che ha lo scopo di creare testo, audio, immagini ed altro in modo autonomo basandosi su enormi dataset presi dal web Chat GPT è stato presentato lo scorso novembre e permette a un sistema di interagire in modo conversazionale con gli utenti rispondendo alle loro domande in maniera simile come lo farebbe un essere umano inoltre può anche rispondere a domande successive mantenendo il contesto, cioè lo storico della conversazione Veniamo allora a Microsoft che già nel 2019 aveva investito un miliardo di dollari in OpenAI e sta già utilizzando le sue tecnologie in Azure che è la sua piattaforma di cloud computing Secondo The Information una parte di questo investimento includeva anche la possibilità di usare parte di quella tecnologia in Bing con la speranza ovviamente di migliorare le sue performance al punto di competere con il dominatore del mercato Inoltre sempre secondo i report Microsoft sta negoziando un ulteriore investimento in OpenAI Peraltro questi report seguono quelli sulle preoccupazioni interne a Google sull'avanzamento di chat GPT e simili che secondo Sundar Pichai metterebbero a rischio il predominio del motore di ricerca ed è proprio su questo aspetto che Microsoft starebbe spingendo la nuova versione di Bing che potrebbe essere lanciata già a marzo 2023 potrebbe utilizzare l'intelligenza artificiale per rispondere ad alcune query di ricerca o magari per arricchire i risultati Usando la tecnologia di chat GPT Bing potrebbe fornire risposte più simili a quelle umane invece di soltanto link a informazioni Sia Google che Bing già mostrano informazioni rilevanti tramite link nella parte superiore di molti risultati di ricerca ma i pannelli di Google basati su Knowledge Graph sono particolarmente utili quando si tratta di cercare informazioni su persone, luoghi, organizzazioni o cose Questo potrebbe essere un punto dove Bing potrebbe migliorare al punto da diventare competitiva Speriamo però in una Microsoft ancora più ambiziosa che si possa inventare nuovi tipi di funzionalità basati sull'IA da integrare nei risultati della ricerca Ricordiamoci comunque che chat GPT spesso dà risposte errate presentandole come vere e spesso soffre di bias razziali e si basa su dataset aggiornati al 2021 quindi manca di alcune informazioni freschissime e non accede a internet in tempo reale per potersi documentare Sam Altman, il CEO di OpenAI ha dichiarato in un tweet che chat GPT ad oggi è molto limitato e che sarebbe un errore basarsi sulle sue risposte per qualcosa di importante Comunque al momento non ci sono dichiarazioni ufficiali da Microsoft o da OpenAI su questa integrazione quindi restiamo qui ad aspettare sulla riva del fiume E restiamo nell'ambito della IA ma parliamo adesso di Nvidia che al CES 2023 di Las Vegas nei giorni scorsi ha presentato la solita pletora di novità hardware e software e una delle cose davvero degne di nota è questo RTX Video Super Resolution che permette di trasformare i video 1080p in 4K utilizzando ovviamente l'intelligenza artificiale RTX Video Super Resolution è pensato per migliorare la qualità dello streaming video ed è riservato agli utenti delle recenti schede grafiche Nvidia funziona rimuovendo gli artefatti dovuti alla compressione e poi aumentando la risoluzione del video quindi pulendo l'input e ingrandendolo sullo schermo al momento vediamo dalle demo rilasciate da Nvidia che sembra sia disponibile l'app scaling da 1080p a 4K Nvidia afferma che il risultato finale dovrebbe offrire un notevole miglioramento nella chiarezza del video su display ad alta risoluzione dove altrimenti l'immagine potrebbe sembrare un po' sbiadita e al CES l'azienda ha mostrato una clip del videogioco Apex Legends con Super Resolution abilitato che sembrava trarre un notevole miglioramento dalla tecnologia RTX Video Super Resolution è previsto per il lancio a febbraio e la domanda è se funzionerà con tutti i tipi di video infatti sui videogiochi Nvidia ha già dimostrato la sua esperienza con il Deep Learning Super Sampling cioè DLSS che è un algoritmo che sfrutta l'intelligenza artificiale per generare frame aggiuntivi non calcolati dal rendering che quindi aumentano le prestazioni senza gravare sulla GPU manco ormai poco al lancio quindi vedremo certamente presto i primi esperimenti ed è tutto anche per oggi quindi io vi ringrazio per avermi seguito fin qui domani niente buongiornissimo perché bisogna smontare l'albero di Natale quindi buon weekend lungo e appuntamento alla prossima settimana ciao